sono tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video di minecraft era un po che ne lo portavo guardate qua sto ho messo la shaders la cuda se non sbaglio si chiama guardate che figata ce l'ha la cosa più bella sono le nuvole che sembrano vere l'acqua che sembra proprio vera guardate sott'acqua che figata assurda risalgo perché sennò muoio tutto il resto è un po troppo illuminato ma è figa anche il fatto che c'è l'ombra nelle cose insomma è figo me l'ha consigliata uno di voi un ragazzo che mi segue da molto molto tempo comunque non perdiamoci in chiacchiere andiamo subito come prima cosa tagliare alberi perché mi servirà della legna perché voglio sicuramente non finire proprio del tutto la la casa perché sono abbastanza sicuro che non sarà così però quantomeno allora tu ora mi devi dire dove cazzo era cioè dove 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 cazzo era comunque veramente dicevo no sicuramente non finirò la casa però quantomeno a parte potevi far esplodere anche l'albero quantomeno mi porto un pochettino avanti tutto qua una cosa veramente assurda ragazzi il clipper che non ho sentito minimamente questa cosa brutta però che non si sentono i clipper ovviamente non è colpa della shaders ma è in minecraft che fa a volte schifo anzi sempre però vabbè ormai ci giochiamo come state che fate come al solito vi faccio queste domande con minecraft perché boh siete tanti ormai quindi anche se in realtà non so davvero quanti cazzo siete perché il mio canale abbaccato quindi boh e ho visto che gli ultimi video sono andati molto molto bene ho visto che le views sono cresciute notevolmente molti miei video vecchi stanno raggiungendo le 2.000 visualizzazioni le mille insomma si vede che comunque c'è più più gente quindi questo sono molto 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 contento pure su instagram grandissimi eri ho caricato un video di alcuni di alcuni oggetti che mi sono arrivati e 400 persone l'anno 400 visualizzazioni ha fatto quel video sono molto contento assolutamente anche se anche lì diciamo dipende dalle giornate perché boh a volte sono 300 mi piace a volte due però vabbè ormai c'è fatto l'abitudine non non so realmente quanti cazzo siete o c'è un problema veramente che i miei feed non arrivano e quindi comunque le persone si perdono le cose poi le recuperano se si ricordano se no non le recuperano oppure non lo so non so che dire comunque vanno alle ciance allora qua vedo che che manca tantissima tantissimo vetro e io non manco sabbia ma è una cosa assurda vabbè ragazzi dobbiamo andare a cercare la sabbia che è una cosa urgente da fare perché io col vetro devo fare tantissime tantissime cose stavo pensando anche di registrare un video che non so se avete visto se vedrete se mai lo registrerò non lo so di praticamente del riguardo il fatto delle gif su gif dipende come le chiamate voi delle di instagram che le ha rimosse perché le ha rimosse bla 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 boh non lo so non ci potrei anche farlo ma ho fatto quello su spotify è andato abbastanza bene qualche 70 visualizzazioni tutti in 24 ore che non sono tante ancora le visual ma in poco tempo si che pochi video hanno fatto circa 100 views in in meno di 24 ore ha fatto il primo fac che ho fatto a vorrei anche registrare un fa che tanto che non lo faccio prendiamo pure un po di terra così perché boh mi va e niente ragazzi minecraft è così si parla si si dicono stronzate ok ho la palla sono arrivato almeno uno stack di di cosa quindi penso che basti spero che basti per lo meno perché mi secco tornare spero che non sentite i rumori sottofondo dei lavori che ci sono in casa perché boh se no sarà una rottura di palle tenete presente comunque dovrò fare anche una scala che probabilmente sarà qua probabilmente e adesso andremo a fare tutto il piano di sopra sempre lo stesso sistema con queste cose messe così ma in realtà no perché no no vabbè perché anzi facciamo una cosa facciamo i bordi così secondo me viene una cagata ok bordi così e tutto il resto potrei farlo o di un altro colore perché boh ma si dai lo faccio un altro colore lo faccio di legna chiara di questa ovviamente non questo ma lavorata stavo dicendo dunque che devo mettere un paio di cose così tipo lavorato niente di 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 che è vedere un attimino come sta obiettivamente risalta obiettivamente mi piace sì 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 mi piace questa proprio mezza alle palle proprio questa distinzione forte eccomi mi piace mi piace a posto ma è bassissimo comunque non lo so sono così pazzo a demolirla è probabile che facciamo questo genere comunque invece qui vabbè qui uso questa legna mi sembra normale c'è ovviamente questa è una stanza e quindi devo chiuderla è arrivato il momento ragazzi di chiuderla questa stanza ok si qui ok figa qui ancora più figa però questa cosa qui non mi piace ok ok aspetta perché questa è messa così infatti perfetto ok fatto qui che in realtà stavo pensando che questa parte che è simile a una cucina io la cambierò tutta però va bene ovviamente mi piace tantissimo avere i vetri grandi proprio mi piace questa questo pa questa parte che in realtà serve a salire io la voglio sempre con i vetri però allora ok ok perfetto ok si una cosa è che qui devo la vorrei levare un attimino perché mi piace fa mi piace fare un non mi dire che ho finito ho una crafting ho della cobblestone ho degli stecchini ho fatto non ci vuole da niente 1 2 3 4 5 lo faccio tutto in vetro solo quello lascio che sarebbe tipo la cosa che regge la casa ok guardate che figata cioè è figo così assolutamente sì mi piace tanto dunque da qui si gira si dovrebbe poter salire quindi ora faremo una cosa del genere tipo in mezzo alle palle cioè io registro mi suona un cazzo di telefono a casa perca puttana vediamo se riesco a piazzarla lo stesso mamma mia genio entro entro però questi cazzi entro è brutto entro così entro così è brutto quindi devo spostare tutto di uno perché se io entro qui dovete immaginare che si è chiuso mi piace il modo di faccia è bruttissimo quindi sposto tutto di uno quindi devo fare le cose qui me ne fa mettere? sii mamma mia genio io odio questa cosa ok genio proprio genio tutta la vita è genio arrivo e chiuso ok posso fare tutto così che è molto meglio ok fare qualcosa c'ho tutto io ragazzi c'ho tutto io cazzo sarebbe figo fare qualcosa qui non so cosa eh ah cosa lo scrivo eh non lo so fare qualcosa poi vedremo allora io salgo chiudo no se chiudo si cazzi ok ok chiudo 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 da a posto siamo qua sopra ora qui è il magazzino il magazzino ragazzi chiudo con la cobblestone e voi mi direte adesso perché io lo so io lo so che voi me lo direte ma che cazzo stai facendo stai facendo tutta una merda no perché io vi ho detto che sopra faccio sempre un altro modo e ora lo vedrete che per realtà questo non è il magazzino però cioè capito come cazzo si fare se non me la fa aprire la cesta vero bastardo mi fa cadere però vero si minchia non me ne ho cobblestone signori non ho cobblestone non ho cobblestone bella questa Claudio non hai cobblestone scherzi vero cioè mi rompi in mente tanto la minchia ok è bruttissimo questa cosa vabbè sbatto la testa se fosse stato più alto sicuramente non avrei sbattuto o forse si comunque poco importa ole abbiamo finito non è vero abbiamo finito questa parte altra parte altro giro altra corsa allora intanto mmm mmm io questi angoli li cambierei tutti cioè proprio li distruggerei tutti e li metterei colonne di tipo questo per intanto cioè questa è fatta a cazzo allora facciamo questo piccolo lavoretto di distruzione tutto tutto ok tu ci c'hai già eh quindi sei due tre quattro cinque sei set no dici quanto è alto uno dovrebbe essere quattro due tre e quattro questo è un quattro quattro di altezza perché sopra lo voglio più alto sì esatto l'ho fatto boss ah no no aspetta ok c'è quattro c'è perfetto uno due tre e quattro verrà esteticamente proprio una merda cavallo il cavallo ancora lì uno due tre quattro questa colonna non so che ci faccia qui comunque uno due tre quattro uno due tre e quattro non può essere scusate ah è sempre alto come sotto così vabbè ok diciamolo ormai è stata fatta ci andiamo magari mi rimetto velocizzate ste porti perfetto bam ok ora resta da capire faccio tutto il legno oh no ragazzi ma sapete che vi dico che io qua sopra no intanto non l'aiuto perché la voglio fare più alta ok tutto qua sotto tutto c'è tutto tutto il pavimento verrà ricoperto di una cosa figa una cosa figa che sarà lana quindi ragazzi per oggi la casa finisce qui perché mi servirà tanta tanta ma dico tanta lana e tanto colorante che dovrei avere il colorante ma la lana non ce l'ho finché non faccio tante mucche tante pecore quindi ragazzi per questo ma porca puttana ok perfetto per questo video è tutto spero tantissimo che il video vi sia piaciuto spero tantissimo che state capendo più o meno ah mi devo fare pure l'arena spero che state capendo come devo cambiarlo spero che state capendo come sta venendo la casa spero che vi piaccia spero che è una cosa fighissima soprattutto così e niente ragazzi per questo video è tutto ci vediamo come sempre ad un prossimo video se commentate condividete iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti